Entro il fine settimana l'amministrazione comunale di Andria tornerà ad avere una giunta. Lo ha assicurato il sindaco Nicola Giorgino durante la trasmissione di Telesveva Spazio Città in onda questa sera alle 23.10. Nel corso della trasmissione condotta da Roberto Straniero, Giorgino è stato intervistato sui due nodi salienti al momento della vita amministrativa di Andria. L'indagine della magistratura di Monza sulla ditta che espleta il servizio di raccolta rifiuti, la Sangalli, e che ha portato all'arresto cautelare dell'assessore all'ambiente Lotito accusato di aver intascato una tangente, e la conseguente crisi politica della maggioranza in consiglio comunale. I due fatti sono ovviamente strettamente correlati. Tutta la giunta, all'indomani dell'arresto di Lotito di metà dicembre, aveva detto no alle dimissioni che il sindaco Giorgino avrebbe manifestato di voler presentare irrevocabilmente. Poi però, sotto i colpi dell'opera di sciacallaggio politico perpetrata da taluni rappresentanti non solo delle opposizioni e dei dubbi diffusi nell'opinione pubblica cittadina, prima il presidente del Consiglio Marmo e tutti e dieci gli assessori, poi, hanno deciso di rimettere il proprio mandato nelle mani del sindaco. Mi ha fatto molto male questa operazione di sciacallaggio che, sebbene ammantata da falsa ipocrisia rispetto alla mia persona e alla mia figura, però è frutto di continue insinuazioni rispetto a situazioni che riguardano l'amministrazione. Io ho detto soltanto, e ne posso dare contezza, che mi sono sempre comportato in un certo modo da quando mi sono insediato il primo aprile 2010 ad oggi. Ho verificato nelle carte in questi quattro anni che chi oggi si erge a paladino di moralità, e non dico di legalità, di moralità, questo stesso atteggiamento non l'ha consumato. Ecco perché dico non accetto lezioni di stile e di moralità da nessuno. Giorgino, con tutta probabilità, riconfermerà in blocco l'aggiunta. In questi giorni ha voluto ripercorrere con ciascuno degli assessori tutti gli atti prodotti in ciascun settore. Stiamo facendo una verifica sul lavoro che è stato svolto, dai singoli assessorati, con i report rispetto al lavoro che è stato svolto, rispetto alle attività che sono state poste in essere, rispetto a quelli che sono stati i risultati raggiunti, rispetto ai piani esecutivi di gestione, rispetto al mandato amministrativo. Se questi risultati, man mano che si va nel merito, confermano la bontà di un'azione, è evidente che al netto di indisponibilità personali bisogna essere anche coerenti rispetto a un lavoro che è stato svolto. Se questa verifica mette in rilievo delle crepe, è chiaro che alla fine bisogna assumere altre determinazioni.